Chiunque abbia subito danni per incidenti stradali, infortuni sul lavoro o derivanti da errori medico-sanitari, spesso non sa che cosa fare, è disorientato, vulnerabile e vive in uno stato di frustrazione e fragilità. Ma ora c'è chi può prendersene cura. Un team di professionisti che tutela e protegge il danneggiato con un preciso dovere etico. Ottenere il giusto risarcimento del danno. GS Gestione Sinistri. Solo dalla tua parte.